Musica Carissimi Planet Drummers, bentornati sul nostro canale. Oggi ci occuperemo di piatti. Carissimi Planet Drummers, bentornati sul nostro canale. E' necessario ovviamente per i live, per la musica moderna, i palchi dove gli impianti audio spingono all'inversibili. Ma noi avevamo un'altra esigenza. Musica Così abbiamo raccolto alcune adesioni, tra le quali la Minol. Ad agio il distributore spagnolo per il marchio Minol ci ha inviato un Classic Custom Dark Kit che rispecchia le caratteristiche da noi richieste, posizionandosi, avendo un costo di circa 535 euro, per il kit completo in una fascia intermedia. Andiamo a vedere perché e come questo kit ha risposto al test di Planet Drum. Musica 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 Per cominciare il Minol Classic Custom Dark Symbol Set è composto da un Dark Hi-Hat da 14 pollici che abbiamo qui, che si vede, eccolo qui. Musica Un Dark Crash da 16 pollici, un Dark Ride da 20 pollici con l'aggiunta di un Dark Crash da 18 pollici, offerto in omaggio dalla Minol a completamento del kit. Sono realizzate in Germania in lega di bronzo B10 e presentano un profilo sagomato, al tornio e una finitura scura. Come dicevamo rispecchiano pienamente le nostre richieste ed il sound scuro che li caratterizza è dato dal martellamento extra profondo e distanziato che viene praticato in fase di produzione. La lavorazione scurisce e asciuga il tono di questi piatti aggiungendo complessità al loro suono aggressivo pur mantenendolo scuro e caldo. La speciale finitura aggiuntiva ne arrotonda la qualità tonale conferendo loro un mix di suoni più caldi, una risposta potente ed esplosiva ma garantendone comunque chiarezza e volume. In questo modo questi classic custom Dark Symbols si adattano ad un genere potente come il rock ed il metal ma anche a un genere power o un semplice, semplice, un fusion. Alla prova sonora sono risultati davvero sorprendenti rispettando questa loro caratteristica di sound caldo senza troppi toni acuti. I toni scuri e complessi rimangono comunque chiari e nitidi e nonostante questa loro tipica caratteristica Dark si nota subito che non hanno perso il volume. Non temono gli amplificatori delle chitarre e di grossi palchi in generale. Il ping surride è risultato ben definito e per nulla pastoso, senza fastidiose ridondanze e la stessa cosa l'abbiamo notata con Hi-Hat da 14 pollici. Il ciclo di quest'ultimo inoltre è netto e potente. I crash rispecchiano lo standard di questa serie, volumi alti, presenza, potenza e sound scuro. Una delizia per chi è in cerca di un sound Dark con la D maiuscola. Il loro aspetto inoltre gli conferisce davvero un look elegante e accattivante allo stesso tempo. Come vedete hanno queste sfumature scure, nere, che sono davvero eleganti. Ora vediamoli singolarmente. Gli Hi-Hat da 14 pollici rispecchiano quanto detto per l'intera serie. Sono caratterizzati da un tono scuro, con una finitura lucida, scura e incredibilmente bella. Il loro sound è brillante, con un attacco forte e aggressivo e un'eccellente definizione della bacchetta. Offrono un suono forte e penetrante, con un potente wash quando suonati aperti e un chic stretto e ben articolato quando chiusi. Il tono è caratterizzato da un tocco di calore aggiuntivo grazie alla martellatura manuale supplementare che viene praticata durante la costruzione e la produzione. Il peso per entrambi i piatti, superiore e inferiore, è identico e viene definito dalla Meinl come medio per garantire toni versatili. Il peso per entrambi i piatti, superiore e infatti, superiore e infatti, superiore e infatti, superiore e infatti. Il peso per entrambi i piatti, superiore e infatti, superiore e infatti, superiore e infatti, superiore e infatti. Anche i crash da 16 e da 18 sono caratterizzati da toni scuri e dalla tipica finitura scura. Entrambi i crash offrono una gamma di frequenza completa con un'ampia diffusione tonale. L'attacco esplosivo e la forte proiezione consentono di penetrare qualsiasi suono e qualsiasi volume. Come i loro compagni di viaggio, sono caratterizzati da una martellatura manuale, profonda e ampiamente distanziata ed è un'ulteriore laccatura che arrotonda il loro attacco conferendo una risposta potente ed una esplosività, ma anche dei toni morbidi e caldi. Per concludere, vediamo il Classic Custom Dark Ride da 20 pollici. Questo ride è stato pensato per emergere sopra gli alti volumi delle chitarre e degli strumenti amplificati in generale. Nonostante la sua dimensione non eccessiva, ha un suono forte e brillante e dei toni ricchi grazie alla lega di bronzo B10 con il quale è costruito. Ottimo per molti generi diversi, tra cui metal, rock, pop, fusion ed altri ancora. Questo classico piatto produce uno spettro completo di toni offrendo una versatilità con un calore costante che lo caratterizza sempre. Grazie a tutti i nostri spettro completo di toni offrendo una versatilità. Grazie a tutti i nostri spettro completo. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.